un caro saluto amici da massimo foghetti per la rassegna stampa di pano tv iniziamo la giornata con questa trasmissione con la lettura dei giornali cominciamo subito con il santo del giorno e vediamo la regia che cosa ha scelto oggi per quanto riguarda il libro dei santi si festeggiano diversi santi ma noi abbiamo scelto san paolo della croce eccolo era un sacerdote nacque a ovada san paolo in piemonte nel 1694 combatte da giovane con la flotta veneziana contro la mezzaluna ma ha preso i voti fondò poi la congregazione dei passionisti ritiratosi sul monte argentaro in toscana fu favorito da molti doni celesti ovvero come rivelazioni colloqui divini profezie il dono delle lingue morì nel 1775 stimato e amato da tanti pontefici ecco san paolo della croce abbiamo imparato a conoscere un pa un santo che probabilmente di cui si conosce ancora poco vediamo le previsioni del tempo giriamo la grafica e vediamo come la giornata è una fotocopia di quella di ieri cioè c'è ancora il robusto anticiclone che continua a garantire sulla nostra regione un tempo stabile e solleggiato le temperature massime sono in lieve rialzo si aggireranno dai 16 ai 23 24 gradi i venti sulle coste spireranno con una tensione media da nord ovest nell'introterra invece da nord nord est il mare è mosso comunque il sole ancora impera il cielo è limpido e questa mattina dobbiamo dire il cielo era bellissimo perché le stelle cominciavano ad ammicare erano stavano impallidendo sulla luce dell'aurora e vediamola allora l'aurora scrutando il panorama da gabice mare eccola una bella immagine il panorama si sta tingendo di rosa in fondo vediamo una bruma ma tra poco quel grigio che c'è sparirà e sorgerà il sole il sole infatti sorge alle 7 27 e tramonterà alle 18 e 19 ed ora diamo un'occhiata ai giornali a partire dal corriere adriatico questa mattina e vediamo come il giornale riporta il confronto che c'è stato ieri in consiglio regionale per quanto riguarda lo stato dell'azilla questo torrente capriccioso che si trasforma rapidamente quando piove intensamente da un rigagnolo a una a un corso d'acqua in piena Arzilla subito i lavori per 180 mila euro è quanto ha dichiarato l'assessore all'aspetto idrografico Aguzzi e Stefano Aguzzi il rischio di esondazione ha promesso sarà arginato l'assessore regionale risponde a due interrogazioni ecco perché c'è stato questo argomento ieri in regione una di Luca Serfilippi della Lega e quell'altra di Marta Ruggeri del Movimento 5 Stelle entrambi chiedevano quali interventi la regione si appresta a fare per garantire la sicurezza nel torrente Arzilla che ora è invaso dalla vegetazione e se arrivasse un'ondata di piena con tutti i tronchi le ramaglie che ci sono sul letto si potrebbe verificare una inondazione ebbene l'assessore regionale ha detto che è in atto un investimento di 180 mila euro i lavori tardano un pochino per iniziare dato che la ditta a cui sono stati commissionati è impegnata in altre zone del territorio che sono state soggette all'alluvione quella del 15 settembre scorso ma tra poco comincerà i lavori che coinvolgeranno la foce dell'Arzilla nei pressi della foce e si innalzerà l'argine sinistro e poi ci sono altri interventi che sono stati fatti nel corso degli anni interventi per 325 mila euro tuttavia ha detto a Guzzi la competenza dell'Arzilla non è significativamente della regione Marche ma nel tratto urbano e del comune di Fano e nel tratto a monte e del consorzio di bonifica sono loro che dovrebbero fare la pulizia appunto del torrente. Comunque è uno degli aspetti ambientali che si tiene particolarmente d'occhio dopo quanto è accaduto recentemente per evitare che si verifichi di nuovo i disastri che si sono verificati in un recente passato. A proposito del risanamento idrogeologico vediamo quest'articolo di spalla perché annuncia un altro considerevole finanziamento e lo annuncia il nuovo assessore ai lavori pubblici Barbara Brunori. Si tratta di un intervento di 550 mila euro per la frana di via Bevano a Carignano, una frana che aveva interrotto anche la viabilità, una frana che era lì da tempo e doveva essere rimossa. La frazione sarà interessata dal primo vero intervento organizzato di messa in sicurezza di cui per 550 mila euro come ho detto di cui 430 saranno di fonte ministeriale. Il resto invece sarà messo dal bilancio comunale. Si tratta di un primo stralcio e muove dalla regimazione delle acque superficiali e dalla realizzazione di drenaggi utilizzando il sistema chiamato Gabbion Drain, ovvero costituito da pannelli simili a scatole in rete metallica rivestiti da un tessuto filtrante che verranno messe a protezione della scarpata in modo che la terra tenga e non frani poi e costituisca un dissesto idrogeologico. Un incidente stradale, direi l'ennesimo incidente stradale. Un anziano travolto mentre attraversa la statale ieri in Viale Romagna. Grave un pedone di 84 anni ferito da un impatto con una vesta, una vespa in cui sella c'era un 75enne. L'uomo all'inizio è stato trasportato al San Salvatore di Pesaro e poi posto in rianimazione. Insomma l'incidente è piuttosto grave. Un altro articolo che riguarda Fano parla della presentazione di un'iniziativa delle liceo Nolfi a Polloni. Ebbene il preside Samuele Giombi insieme all'assessore alle biblioteche Samuele Mascarin ha organizzato una serie di incontri che si svolgeranno a partire da domani nella Memoteca, nella Mediateca Montanari. Si tratta della presentazione di libri scritti dagli insegnanti del liceo. La nostra non è solo una missione didattica, ha detto Giombi, è anche una missione culturale. Ecco, riscoprire questo aspetto della didattica è importante perché se trasmettiamo la passione degli insegnanti per quanto riguarda il loro mestiere agli allunni anche loro sapranno più apprezzare lo stare a scuola. Al via domani alla Memo un ciclo di quattro incontri del liceo Nolfi per presentare libri. E si comincerà con Pillole di filosofia scritto dall'insegnante Giancarlo Iacchini, un insegnante di filosofia. E poi il giovedì 24 novembre ci sarà Martina Cerni, docente di lettere, che presenterà attraverso i suoi cerulei occhi una raccolta di racconti. Il 10 invece è Artiglio di Leoni, un racconto di Nadia Rita Panizzi, docente di lingua e civiltà spagnola. La rassegna si chiuderà il 15 dicembre con Daniele Ricci, docente di lettere, che presenterà il libro di poesie Lezione di Meraviglia. Sono interessanti incontri per vedere, appunto, colloquiare con gli insegnanti del liceo Nolfi a Polloni. Giardini Radicioni sono un piccolo pezzetto di terra che si trova nei pressi della Basilica di San Paterniano. Ebbene la Fondazione Caritas si fa avanti per curarne la manutenzione. E in questo impiegherà chi? Impiegherà i giovani. Promuove questa iniziativa all'inclusione lavorativa dei giovani, rafforzandone le competenze e le relazioni sociali. Dunque si fa avanti la Fondazione Caritas Fano per prendersi cura dei giardini radicioni. Un piccolo angolo così di pace, di tranquillità nella convulsa attività, non tanto convulsa però possiamo così definirla, l'attività del centro storico dove fermano le attività commerciali, dove c'è mobilità. Ebbene questo piccolo spazio è veramente delizioso e in passato era anche curato dagli artisti. Comunque è una bella iniziativa. Ora lasciamo Fano e passiamo alla Val Metauro dove parliamo di Fossombrone. Parliamo di Fossombrone perché ieri il sindaco Massimo Berloni insieme al vice sindaco Michele Chiarabilli e dal presidente del Consiglio Cristian Amadori e dal responsabile organizzativo della tappa del ciclo del Giro d'Italia che si svolgerà il 13 maggio del 2023 sono stati a Milano per la presentazione appunto del Giro d'Italia. Il Giro d'Italia Fossombrone, un'occasione senza precedenti, pensate, sarà l'unica tappa in tutte le marche. Il numero di Fossombrone sarà promosso, sarà fatto conoscere dai mass media in tutta Europa, diciamo così forse anche in tutto il mondo, perché il Giro d'Italia ha un sequel di affezionati, di ciclisti che lo seguono con interesse e passione. E quindi una bella occasione di promozione per Fossombrone. Non possiamo vietare l'impianto agrivoltaico, ha detto ancora Aguzzi ieri in pieno Consiglio regionale per rispondere ad una interrogazione di Luca Serfilippi. Luca Serfilippi aveva chiesto l'UMI alla Giunta regionale, lui fa parte della maggioranza, comunque aveva chiesto l'UMI alla Giunta regionale per quale atteggiamento avrebbe assunto nei confronti della proposta di una ditta privata di realizzare un mega impianto agrivoltaico nei pressi di Carrara. Purtroppo la Regione, oltre che dare un parere, non ha un potere deliberativo, questo lo ha il Ministero, non lo ha nemmeno il Comune di Fano, comunque il parere sarà senz'altro negativo. Aguzzi in regione risponde a Serfilippi, il nostro parere negativo è solo consultivo, ha detto. Comunque si confida nel Ministero. Vediamo anche la pagina della Val Cesano, dove c'è un articolo che riguarda San Costanzo. San Costanzo è stato scelto dall'ASET per dare il via alla sperimentazione della introduzione dei cassonetti intelligenti per la raccolta dei rifiuti. Cosa vuol dire? Saranno cassonetti che saranno fruibili con delle tessere e ogni utente avrà la sua quantità di rifiuti consegnata, segnata in questa tessera e in base a questa poi pagherà la bolletta. San Costanzo si prepara alla sperimentazione per migliorare la raccolta differenziata, così come Pesaro ha fatto per Marche Multiservizi. Sono già state programmate diverse assemblee pubbliche, ha detto il Sindaco Filippo Sorcinelli, nelle quali il gestore della raccolta ASET darà conto, insieme a noi, a noi del Comune, di tutte le importanti novità che renderanno San Costanzo, il primo Comune interamente servito da un sistema di conferimento dei rifiuti nelle isole ecologiche ad accesso controllato. Un sistema che andrà a regime, prevediamo entro la fine dell'anno, già a dicembre. Intanto, ha precisato Sorcinelli, a partire già dalla prossima settimana, comincerà la sostituzione dei vecchi cassonetti stradali con quelli nuovi, quindi un esperimento prossimo ad essere realizzato. Ed ora diamo un'occhiata anche alla pagina regionale, perché vediamo che ormai l'esclusione dei ciccioli dalla giunta regionale, cosa fatta, subentra invece Brandoni, l'ex sindaco di Falconara, Goffredo Brandoni. Brandoni è il terzo assessore, ora Acquaroli ha la squadra. Vediamo come è composta la giunta regionale, dopo che tre assessori sono andati in Parlamento. Ebbene, abbiamo il presidente Francesco Acquaroli, e poi Filippo Martini ha la sanità, Francesco Baldelli ha le infrastrutture, Stefano Aguzzi ha la protezione civile, lavoro, ambiente, è l'assessore più interpellato in questi giorni per quanto riguarda i disastri ambientali. E poi le new entry, sono Andrea Antonini della Lega, a cui viene dato lo sviluppo economico, l'agricoltura, i fondi europei, Chiara Biondi, sempre della Lega, alla cultura, istruzione, pari opportunità, e Goffredo Brandoni, di Fratelli d'Italia, appunto l'abbiamo detto, bilancio personale, trasporto pubblico. Per Ciccioli si propina un futuro in bilico, forse andrà a Roma con un ruolo tecnico nel Ministero, un contentino per ripagare il capogruppo di Fratelli d'Italia dalla delusione della sua esclusione dalla Giunta. Mi si perdoni questa considerazione, comunque Ciccioli avrà probabilmente un suo nuovo ruolo, dove poter così esporre la sua posizione di carattere politico. E poi al posto di capogruppo, chi andrà? Ebbè anche questo è un busillis da ripianare per Fratelli d'Italia. Alluvione, 78 milioni di euro per le spese urgenti, è un'altra interpellanza a cui ha risposto l'assessore Aguzzi nel Consiglio regionale di ieri. Questa volta è stata un'interpellanza fatta anche dal Partito Democratico per sapere quanto la Regione ha finanziato il risarcimento dei danni patiti da molti comuni. Ebbene, solo per le spese di somma urgenza siamo arrivati, ha detto Aguzzi, a 78 milioni e ancora note spese arrivano in Regione. Quindi probabilmente la somma aumenterà. Sono spese urgenti che devono essere fatte per ripristinare una vivibilità accettabile. E parliamo anche di Covid, perché insomma c'è un andamento altalenante. i contagi erano in ripresa ultimamente e poi sembra che si siano arrestati. Comunque ora si parla più insistentemente di quinta dose, non solo di quarta, ma anche di quinta dose, sebbene la quarta ancora non decolli. Solo 72 mila 704 marchigiani si sono iniettati il secondo booster. Copertura del 12%, molto molto pochi. Da lunedì gli anziani e gli over 60 fragili possono prenotare il nuovo richiamo. Ebbene, dopo cinque settimane di crescita continua con picchi fino all'80% in sette giorni, la curva dei contagi nella nostra Regione inverte oggi la sua pendenza. Da due giorni consecutivi l'incidenza settimanale è in calo e ieri si è attestata quota 540 con un meno 7,5% in sette giorni. E speriamo che questo trend continui. E poi vediamo la pagina di Pesaro dove si parla di crisi energetica con un occhio alle luminarie di Natale. Insomma, spegnere anche le luci di Natale sarebbe veramente una grande tristezza che dilaga, che ci propina la guerra tra la Russia e l'Ucraina. Spegnere il Natale sarebbe veramente molto brutto. Luminarie e albero di Natale noi non spegniamo le luci. Feste e risparmi il tema nella riunione di giunta. Ci saranno poche rinunce da decidere però quali. Ebbene, c'è una presa di posizione di Emanuele Gambini che ha interrogato la Giunta. Emanuele Gambini è un esponente della opposizione. Emanuele Gambini interroga la Giunta su quali azioni verranno intraprese per l'illuminarie e l'albero di Natale dagli inizi di dicembre. Insomma, Natale non è molto lontano. E già la proiezione per quanto riguarda il clima della festa e poi anche gli effetti che la festa produce sulla economia della città si comincia a parlarne proprio di adesso perché occorre fare dei preventivi. E in provincia i termosifoni saranno spenti alle ore 17. Sarà chiuso un piano e non ci saranno le stufette. Inverno al freddo per la provincia. Paolini annuncia i correttivi e l'austerity arriva anche in provincia. Vedremo cosa faranno i comuni per risparmiare soldi e bollette. Via Borgomozzo la discarica del centro storico protestano i residenti della zona. Ne pulizie, ne decoro una vergogna. Insistano i residenti di questa parte di Pesaro perché vogliono vivere in un contesto più pulito, più sano. E poi in questo articolo invece è un articolo che occupa tutta una pagina. si parla dell'aspetto sanitario e per quanto riguarda soprattutto la copertura del servizio di pronto soccorso. Salta Martini ignora il maxi appalto. Ruggeri, l'informazione è opaca. Cooperative a Marche Nord e l'assessore parla di 146 turni del primo incarico ma non dei 9.000 del bando. Ebbene, ieri in Consiglio regionale si è parlato non solo di disastri ambientali, non solo dell'aspetto idrogeologico del territorio ma anche di sanità. La sanità è sempre alla ribalta perché ci sono diversi servizi da coprire e c'è ancora carenza di personale e per quanto riguarda il pronto soccorso c'è un serrato dibattito tra la Giunta e l'opposizione. Qui vediamo i due protagonisti di ieri l'assessore Filippo Saltamartini e il capogruppo del Movimento 5 Stelle Marta Ruggeri. Diamo anche un'occhiata alla sì, in questo articolo che riguarda un'indagine un'indagine per indagini disciplinari di due dipendenti dell'ERAP si tratta di indagini che sono state archiviate riguardano una prima accusa ce n'è un'altra in ballo e anche qui Aguzzi che ieri veramente ha furoreggiato in Consiglio regionale ha risposto al Partito Democratico sul processo penale. Una terza verifica è stata sospesa Cesetti, vicenda di una tristezza assoluta ha detto ed è una considerazione che esprime non solo il merito della questione ma anche il sentimento che essa destra. E ora passiamo al resto del Carlino e vediamo che abbiamo un'apertura quantomeno originale ebbene si avvicina l'inverno in fabbrica via il Golfino e per gli operai c'è il Pael Marco Vizzini che è il titolare dell'impresa Vizzo.it produce capi di abbigliamento aziendali e conferma c'è stato un aumento di richieste di giubbotti e gilet imbottiti e vanno forte anche le maglie termiche è una previsione questa perché ancora il freddo vero non è arrivato ma la gente comincia a indossare il maglioncino perché insomma la temperatura comincia così magari anche a livello psicologico perché siamo sempre oltre i 20 gradi quindi non è freddo ancora però insomma l'idea di passare un inverno al freddo dove sarà difficile riscaldarsi impone alla gente di acquistare ancora come dice appunto Marco Vizzini giubbotti e gilet imbottiti passiamo a invece vedere i fasti diciamo così di un'azienda che va a gonfie vele a Fano ed è la Nucopromo che si occupa di vongole pannelli sul tetto e contratti fissi la Nucopromo beffa il caro energia si riferisce il titolo ma l'articolo riguarda anche la situazione di questa azienda ed è una situazione prosperosa mentre alcune diverse aziende languono per la crisi che ingombe sul caro energia sull'aumento delle materie prime la Nucopromo invece è una delle eccezioni ebbene la Nucromo batte la crisi la previsione è di chiudere il 2022 con un fatturato intorno ai 20 milioni di euro l'azienda ha 47 dipendenti e lavora oltre un milione di chili di molluschi all'anno provenienti da tutti i porti dell'Adriatico da nord a sud da porto di Monfalcone a quello di Margherita di Savoia vongole cozze lumachine raguse presto anche ostriche che nello stabilimento fanese sono lavate suddivise per dimensioni pesate e confezionate in sacchetti dotati di etichette quindi c'è tutta la filiera conservate per brevissimo tempo nelle celle frigorifere e poi e poi esportate la maggior parte va ai clienti italiani e spagnoli il 40% sono grossisti il 60% fornisce la grande distribuzione quindi una risorsa per l'economia fanese importante se non ci fossero veramente le vongolare il porto pescareccio di Fano sarebbe ridotto ai minimi termini lunedì sera c'è stata anche una nuova riunione a Carrara per quanto riguarda l'elettrodotto l'Adriatic Link i cittadini presentano il conto ai tecnici di Terna ebbene cosa vogliono? vediamo tra le richieste avanzate c'è l'interramento di una parte dei fili dell'alta media tensione quelli attuali non quelli dell'Adriatic Link perché quelli saranno interrati da soli ebbene c'è l'interramento di una parte dei fili dell'alta media tensione ma anche una serie di opere viarie per migliorare e mettere in sicurezza il quartiere si è parlato di marciapiedi piste ciclabili della rotatoria all'altezza del bar Arcobaleno Terna fanno sapere dall'azienda confermando la propria disponibilità all'ascolto e al dialogo con il territorio ha raccolto le istanze dei cittadini e dell'amministrazione insomma vedremo poi se alle parole seguiranno i fatti Arzilla regione assente fatto anche troppo ha detto a Guzzi e l'articolo si riferisce al dibattito in consiglio regionale sulle sorti delle torrente e invece a Mondolfo abbiamo una scuola media che secondo l'opposizione è a rischio anche il prossimo anno secondo Bonaccorsi che è il leader dell'opposizione a Mondolfo i lavori procedono a rilento tre anni di disagi e non si vede la fine la replica dell'assessore Tiritiello l'obiettivo resta la riapertura per settembre del 2023 questi gli impegni della giunta invece a Torre Roveresche vediamo che gli scolaretti di piagge stanno un'ora sul bus e questo non è accettabile per dei bambini in tenera età protestano dunque i genitori disagi anche per gli alunni delle medie costretti ad attendere 40 minuti prima che arrivi l'autobus bisogna studiare delle soluzioni lo sfogo di un gruppo dei genitori di cui si fa portavoce il consigliere di minoranza di Terre Roveresche Giacomo Pucci e appunto si pone dalla parte dei bambini passare un'ora in giro per la città su un bus prima di andare a scuola non è accettabile e questa era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento a domani alle 7 e per le notizie del giorno come sempre alle ore 20 e 30 al TG di Fano TV Occhio alla Notizia condotto da Simona Zonghetti e questo è tutto per il momento a risentirci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti